Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Come lo avete letto dal titolo oggi vi ando a parlare della pesca al siluro top water Delle sue varie applicazioni, spot, dell'approccio delle esche e di canne mulinelli Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Dunque superiamo i 100 like per questo video Allora ragazzi andiamo a parlare un attimo dello spot Lo spot può essere veramente variabile C'è chi mi ha già chiesto nei precedenti video come si fa a capire lo spot Come si fa a capire lo spot per la pesca al siluro top water Bisogna andare a pescare, semplicemente Ci sono due possibilità, o li andiamo a provare quindi andiamo a lanciare e vedere se in quel tratto ci sono pesci Oppure li sentiamo sopra acqua che fanno il rumore classico che è quella mini esplosione che è pazzesca Gli spot possono essere molto vari, possono essere piccoli canali, fiumi, anche canali di 50 metri di larghezza, di 8 metri, di 5 metri Dove si può annidarsi loro Spesso li troviamo sotto riva ma proprio con la bocca rivolta verso riva Cioè qua abbiamo la sponda e loro fondando così Che sono appostati per mangiare E quella è la situazione migliore In genere per prenderli top water l'acqua non deve essere troppo profonda Ovviamente in po' in centro con non so quanti metri ci sono sotto Non li prendete a rana In genere uno spot può essere da 20 centimetri di acqua a 2 metri massimo Proprio massimo Se sono attivi e sono a galla possono essere anche 3-4 metri Però non deve essere troppo profondo L'approccio è molto importante Li ho pescati per ben 2-3 settimane e ho imparato molto Infatti ho imparato bene a studiare il loro comportamento Cosa fanno e come lo fanno E in più come mai lo fanno Allora dividiamo in due parti questa pesca Anche in tre volendo Allora intanto dividiamo la pesca Acque aperte contro acque sporche diciamo Adesso capiamo Acque aperte cosa intendo Intendo spot liberi dove può esserci magari qualche ramo Magari la riva con un po' di canneto sulla riva opposta Ma niente di che Contro spot dove magari si pesca sotto canneto come faccio io Oppure sugli erbai E quindi andiamo a scegliere un altro tipo di esca Sullo spot aperto ovviamente andiamo Si può usare sia la rana Però si possono usare anche ancora Si può usare sia la rana Oppure ancora meglio Ancorrettati Whopper Popper Buzzbait Popper VTD anche Invece sugli spot sporchi Si va ad utilizzare rane O comunque qualcosa che non vada a impigliarsi Parliamo un po' dell'approccio L'approccio è molto lento in genere Magari con le esche ancorrettate Si può andare un pochino più veloce Però l'importante è il lancio e la caduta dell'esca In entrambi che può essere acqua aperta o acqua sporca Ci deve essere un buon lancio Un buon movimento anche Perché molte delle volte Penso sul 75% Gli attacchi li ho avuti Quando l'esca cade in acqua sulla sponda opposta E la lascia la ferma Perché? Che cosa succede? Passo il lancio Il lancio deve essere molto preciso Perché soprattutto io che pesco in canneto Cioè proprio vado dentro i canneti Spesso buco i muri di canneti Per andare proprio sotto contro la sponda Lancio, arrivo, fa un bel rumore E il rumore che cade in acqua deve essere molto bello Molto forte Non deve essere mosso o roba del genere Deve essere un bel rumore netto e forte Più possibile Infatti si sente che il lancio è molto forte Nonostante la distanza sia molto ravvicinata In modo da far fare un bello splash all'esca Seconda fase Appena l'esca cade in acqua Aspettare Possono essere 5-10 secondi Dipende anche dal posto Dai siluri come mangiano Però in quella fase là Se il siluro è in movimento Succedono due cose Fa un movimento Ovvero Si vede l'ondina L'ondina che tanto Non è Sembra quasi uno tsunami Cioè si vede il movimento dell'acqua Lui si gira Fa quest'onda che è riconoscibile facilmente E quindi capisci che l'hai in caccia E allora là devi stare attento Perché o te lo mangia adesso O te lo mangia tra poco Oppure Muove delle cannelle Degli erbai Infatti sul primo video si vede Come Oh muove la cannella Muove la cannella Adesso mangia 3 secondi dopo Avvoli il silurin can Cazzo si è mossa la cannella là Eccolo Eccolo Preso Infatti bisogna stare attento Soprattutto quando si pesca in mezzo A i canneti Il movimento delle cannelle Perché Se Siamo in mezzo al cannetto Muoviamo la rana Si muove una cannella Anche se magari Rilanciamo poco dopo Gli lanciamo vicino A quella cannella che si è mossa Molto probabilmente abbiamo la mangiata Poi dipende se era dalla parte della coda O dalla testa Però Spesso si gira Infatti il siluro non caccia vista Caccia sulle vibrazioni Noi ci dobbiamo basare sulle vibrazioni Riformulando Lanciamo la nostra esca in acqua Lasciamo l'acqua I 5-10 secondi E aspettiamo Se vediamo un movimento Magari facciamo un piccolo Lo spostiamo di poco Facciamo quella giusta Piccola vibrazione Che magari è là Magari il siluro è Là vicino a un metro Cade l'esca Si avvicina pian piano Gli sta là così attaccato Tanto che aspettiamo Facciamo un piccolo movimento E Proprio l'esplosione istantanea Nel caso Non abbiamo visto nessun movimento Abbiamo lasciato l'esca ferma Non è successo niente Possiamo dare una bella botta forte E fare alte vibrazioni In modo da richiamare Se non è proprio in quel punto Nei pressi I siluri che ci sono Là nei pressi Cioè Nei pressi Un po' più lontano Dei pressi di prima Cioè se magari Nel raggio di 2 metri Non c'è un siluro che ha tirato Facciamo un po' di vibrazioni Spostiamo la rana E magari quelli che stanno Un po' dopo Sentono le vibrazioni Vengono attirati Nel caso della rana Che può essere il caso del popper Popper frog Wopper popper Tutte le esce che guardate Comunque Anche nel recupero Non dobbiamo esagerare in velocità Anzi Spesso La lentezza Premia Infatti Fare pause molto lunghe Aiuta molto Perché il siluro Non è Istintivo Come può essere Un cavedano Come può essere Un serra Che attacca magari Quando l'esca Cambia velocità Va più veloce Il siluro Tende ad attaccare Sul fermo Sul lento Appena si muove Non prima Non dopo Già in movimento È veramente difficile Che attacchi Non impossibile Però è difficile E spesso Manca l'esca In quel caso Quando si va a pescare Questo pesce Si batte lo spot Bene A volte Bisogna Entrare in un buco 3-4 volte Per riuscire a tirare fuori Quel pesce E riuscire a farlo mangiare Quindi non state A battere lo spot Grossolanamente Quindi magari Un metro qua Un metro di là No Battete bene Tutto Tutto l'erbaio Per lungo Per largo Destra Sinistra Incrociato In modo da essere sicuri Perché spesso E volentieri Se il siluro Non gli arriva L'esca davanti Alla bocca Non mangia Ma proprio No Può essere a 3 centimetri Più avanti E lui non si muove Ve lo assicuro Che può essere così E questo Non è magari La maggior parte Delle volte 20-40% Anche si Spesso è così Bisogna battere bene Centimetro per centimetro Tutto lo spot Parliamo un attimo di più Sulle esche ancorrettate Sullo spot pulito Anche là Bisogna andare piano Infatti Quello che vi consiglio Se avete tipo Un popper Wopper Popper Di fare Gercata lunga Pausa Gercata lunga Pausa Oppure Colpetto Pausa Colpetto Pausa Che pausa Non sto dicendo il tempo reale Sto Dicendo solo la sequenza Per una pausa Dovete anche vedere un po' Lo spot Può essere dai 2 Può essere 10 secondi Dipende un po' anche Il siluro I siluri Soprattutto perché Bene o male Anche la temperatura Influenza il loro stato di attività In base magari allo stato di attività Possono mangiare sul più lento O il più veloce In caso di VTD invece abbiamo Magari una o due cercate Stop Una o due cercate Stop Una o due cercate Stop Nel caso di buzzbait Parliamo di Recupero molto molto lento Il minimo per tenere la vibrazione E tenerlo su a galla Dopo se mi sono dimenticato qualche esca Scusatemi Ma penso che da queste principali Riusciate a ricavare comunque Un recupero Vi spiego un attimo Come funziona La ferrata della rana Io utilizzo Questo metodo Mangiata Quindi Uno Due Tre Quattro Cinque Ferrata Perché se no Cosa succede Se ferriamo troppo presto Il pesce prende la rana Non riesce a schiacciarla Quindi se ferriamo immediatamente Appena sentiamo In questo caso Il siluro non schiaccia la rana Gli ami non escono E li tiriamo fuori l'esca dalla bocca Se ferriamo al tempo giusto Il siluro schiaccia Gli ami escono E Gli ami si impiantano Dunque abbiamo parlato un attimo delle esche Le abbiamo accennate Andiamo a parlare delle esche In vero e proprio Le esche possono essere Delle dimensioni più piccole Quindi magari una rana da 6 cm Un whopper popper da 9 cm Un popper da 6 cm A esche da 20, 30, 40, 50, 60, 80 grammi Non so se c'è un popper da 80 grammi Però nel caso Può essere in base alla stazza del pesce Ovviamente non andate Con un popper da 6 cm A prendere pesci in un metro Se magari ci sono anche nello spot Pesci piccoli Ok però Se avete pesci grossi Andate con un'attrezzatura che può tenerli Abbiamo già parlato delle esche Quindi popper Whopper popper Buds bait Rane Che possono essere di gomma Possono essere popper tra l'altro VTD Nel caso come scegliere l'esche Vi dico Quella che fa maggior vibrazioni E che ha un buon rapporto peso Che fa un bello splash È quella consigliabile Perché in siluro non caccia vista Ma caccia sulle vibrazioni In base alla linea laterale E ai barbigli Quindi maggior numero di vibrazioni fatte Meglio è Ora andiamo a parlare di canne mulinelle Come con le esche Canne mulinelle e fili Vanno abbinati Cioè andate a prendere pesci piccoli Un metro Un metro e venti Vi basta una buona canna Che tenga magari 10-30 grammi 10-45 Una canna da serra Con un trecciato Che può essere Dal 15-30 Anche Dipende Se pescate in erbaio Per esempio Se volete pescare come pesco io Potete farlo sia a casting Che a spinning A casting vi consiglio comunque Una canna pesante Da jig Come ho io Da ivy cover 15-45 Una cosa del genere Con un rapporto di recupero Molto alto Perché comunque Nel caso della rana Sarà un recupero molto alto Nel caso delle hardbait Con ancorette Ci vuole un recupero più lento Del mulinello Comunque io utilizzo Un 25 di trashato E un terminale Di 0-60 di floro Perché? Perché intanto Ho bisogno Spesso e volentieri Di tirarli fuori Dagli erbai Ho bisogno Di tirare fuori Anche dalle cannelle E soprattutto Da tirare l'esca Dentro le cannelle Ed evitare che il filo Si tagli Ovviamente magari Se andate a prendere Siluri più grossi Andate a utilizzare Una canna più adeguata Cioè siluri da 1,50 1,80 Soprattutto se avete Ostacoli Meglio avere una canna Bella forte Per tirarli fuori Perché se no Dite ciao esca Ciao siluro Nel caso dei siluri più grossi La treccia Da un 32-35 Millimetri Fino anche Un 0,50 Di treccia Perché soprattutto Se si pesca in erbaio C'è il bisogno Di tagliare Le erbe E tirare fuori Il pesce Soprattutto quando Si va a mettere In mezzo alle erbe Che si avvolge C'è bisogno Di molta trazione E un filo troppo sottile Rischierebbe di rompersi O di tagliarsi Quindi meglio Appuntare un pochino In questo caso Come ho detto Le canne possono essere varie Possono essere Più o meno leggere Nel caso Andate a pescare siluri Come quelli che prendo io Io ho deciso Abbinare una canna Abbastanza leggera Non troppo Perché se no Non riuscirei a tirarli fuori dagli erbai Cioè comunque È una canna da bus Fatta però Per fare Diciamo questo tipo di pesca È fatta per tirare I bus fuori Da erbai Cannelle Strutture varie In modo che il pesce Non vada A torcigliarsi da qualche parte Senza il rischio di perderlo Se non avete questa canna E non volete comprarvela Una canna da serra Una 15-45 Con azione fast Va benissimo Dunque ragazzi Spero che per questo video Ci sia tutto Mi raccomando Se avete delle domande da farmi Fatemelo qua sotto nei commenti Vi risponderò il prima possibile E se avete Sempre domande Magari guardate nei commenti Che magari ho già risposto Dunque ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto E vi sia stato utile Adesso magari no Ma magari tra 3-4 mesi Riusciranno I siluri E si ritornerà A pescare I top water Dunque ragazzi Lasciate like Quando vi vedete il video Iscrivete il canale Se non siete ancora iscritti Per questo video è tutto Spero vi sia piaciuto E direi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti